E' un piacere intanto conoscere Beppi Pilon, buonasera e ben venuto a Pescara Pilon. Grazie, sono molto contento di essere arrivato qui, finalmente, sicché spero di ripagare la fiducia che la società mi ha dato e di ripagare i tifosi, cercando di ottenere la salvezza il prima possibile. Prima o poi le strade insomma erano destinate ad incrociarsi, perché è la storia di qualche anno fa, no? Sì, mi sembra, nel 2014. Sì, eravamo in tre in ballottaggio, poi la scelta della società è stata un'altra, ma questo fa parte del nostro lavoro e di saper accettare anche queste situazioni qua. Ecco, bisogna invertire il trend, mancano nove partite, non è un compito agevole. No, non è mai facile subentrare, soprattutto quando mancano nove partite, perché devi entrare subito nella testa dei calciatori, dare qualche input, cercare di far meno danni possibili, ma soprattutto a livello mentale, cercare di ridare entusiasmo, un po' di serenità, perché quando si viene da queste situazioni di classifica è chiaro che un po' d'ansia c'è. Perciò dobbiamo ricaricarci in questo senso qui. Lei ha già assistito a un match del Pescara dal vivo, se non vado errato, a Cittadella, no? Una delle migliori prestazioni degli ultimi tre mesi. Lei ha anche detto che bisogna ripristinare le certezze di qualche tempo fa con pochi accorgimenti. Si riferiva a quella partita? Sì, ho visto quella partita e devo dire la verità, mi era piaciuto il Pescara sul piano del giudotto della manovra, su come ha giocato, ha fatto qualche errore individuale, però la partita l'aveva fatta bene. Secondo me aveva giocato una partita ottima da quel punto di vista, anche perché io andavo spesso a vedere Cittadella, Cittadella è una squadra che ti mette in difficoltà, è molto difficile da affrontare. Devo dire che quella partita non meritava assolutamente di perdere il Pescara, mi ha fatto un'ottima impressione, perciò io credo che si deve proseguire un po' su quel lavoro lì e cercare con qualche accorgimento, qualcosa che magari nella fase difensiva di mettere qualcosa di nuovo e cercare di far punti. Sì, perché la cosa importante è adesso far punti, con le buone, con le cattive, cercando di tirare fuori un po' di cattiveria, sanno l'agonismo che ci deve essere, insomma perché quando ci devi salvare bisogna tirare fuori anche quelli. Come cani che mordono, ha detto, la riconquista del pallone. Sì, infatti, le mie squadre le ho sempre volute così, se io voglio avere la palla, devo riconquistarla, avere la voglia di averla, non di lasciare gli avversari e di recuperarla velocemente per poi ripartire o per fare le nostre giocate. E dobbiamo mettere anche cattiveria, perché quando tu vai sulla palla il contrasto lo devi vincere, la mezza palla la devi vincere. E bisogna trovare fuori quel sanno agonismo che forse ha bisogno di questa squadra. Ecco, per capire un po' quale potrebbe essere l'atteggiamento della Pescara in queste nuove partite, la fase di riconquista del pallone deve avvenire in zone alte del campo, per esempio? Sì, dipende anche da chi giochi contro, dipende da come vuoi preparare la partita, puoi fare alto, puoi fare medio in mezzo al campo. Quello che non mi piace è abbassarmi troppo, non è una cosa che mi piace molto, mi piace giocarmi la partita sempre. E comunque, con i nostri equilibri, con le nostre difficoltà che ci possono essere, ci può essere che ti mettono in difficoltà per un quarto d'ora, venti minuti, sei lì, soffri, ma poi devi cercare di alzarti e di fare una partita. Sono quattro anni che lei manca dalla campionato di Serie B, l'ultima esperienza proprio a Carpi, tra l'altro subentrò a vecchi e fece benissimo sfiorando i playoff. Perché Pilon è rimasto per così tanto tempo ai margini del calcio che conta? È una bella domanda questa, nel senso che, sì, purtroppo nel calcio, è stato poi quell'anno che dovevo venire anche qua, nel calcio poi si dimentica facilmente di quello che uno ha fatto, di cosa hai fatto bene, se non hai fatto bene. Io ho sempre viaggiato, non ho mai viaggiato con persone che, non so, procuratori, così, ho aspettato sempre la telefonata. Se mi arrivava bene, se non mi arrivava, stavo a casa e purtroppo io sono dovuto anche… Non mi ero agganciato a certi cari? No, no, i cari io non so neanche cosa sono. Perciò, no, no, ho sempre fatto di mio, sono 25 anni che alleno, ho sempre cercato di fare il massimo con la mia carriera. Ho fatto la 5 nel Padua, ho fatto la 5 con l'Alessandria, a Padua sono subentrato, ho portato la squadra da quinto ultimo, a quinta classifica, abbiamo sferato i play-off anche lì. Ad Alessandria ho perso la finale con il Parma e già mi girano le scolte ancora adesso, così che, insomma, adesso sono qua. La cosa che mi prende più è salvare questa squadra qua e poi sperare di dare fiducia alla società e di poter lavorare il prossimo anno e di conquistare qualcosa di importante. Il mio obiettivo è questo, salvare la squadra, portare la squadra a fare questi benedetti 12 punti che mancano, arrivare lì e poi cercare di aver fatto bene per meritarmi la riconferma al prossimo anno. Quindi ha strappato un'opzione. Sì, chiaramente con Repet, insomma, ci conosciamo, se facciamo bene non preoccuparti, io non mi preoccupo, intanto penso far bene adesso. Nel senso che la cosa più importante per me, per il Pescara, per i tifosi, per la società è questo, cioè fare questi punti, portare alla salvezza e poi ci penseremo, insomma. Lei ha inciso profondamente, per esempio, a Treviso con quei tre campionati straordinari vinti, poi la storica promozione in Serie A col Chievo e anche ad Ascoli. Tra parentesi ad Ascoli, lei ha avuto Barzagli, lo portò da Pistoia e insomma Barzagli se è diventato quello che è diventato lo deve anche un po' o molto a Bebbi Pillo. È stato bravo lui, diciamo che io ho avuto la fortuna di cambiargli ruolo, nel senso che lui era un centrocampista, Pistoia, aveva 19 anni e gli ho detto guarda non mi piaci, meglio che vai un po' più dietro. Ho detto che forse è meglio. Da quando l'ho messo lì ho visto che aveva delle capacità anche sulla palla sopra la linea, questa corsa, questa falcata che andava a riprendersi la palla, bravo negli anticipi e soprattutto bravo a leggere le situazioni. Perciò è stata la mia fortuna e anche la sua fortuna avergli cambiato ruolo. Poi me l'ho sopportato ad Ascoli, è stato con me due anni e mi ricorderò sempre che Giovanni Settori che lo voleva portare a Chievo mi disse guarda io ho quattro centrali, ha detto volevo il quinto, un giovane. Ma se prendo Barzagli secondo te, se prendi Barzagli dopo un mese lo metti in titolare Barzagli, invece poi è successo che dopo un mese è andato in titolare Barzagli e ha fatto la carriera che ha fatto. Riconoscente Barzagli. Sì, sì, è un bravissimo ragazzo, insomma, no no, ho sempre avuto degli ottimi rapporti con i miei giocatori, non ho mai avuto problemi. In bocca al lupo di cuore mister. Grazie Crepi, grazie, arrivederci.